Si possono caricare le principesse Disney con un camion della spazzatura E ringrazio Luke per questo L'avevamo già testato tuttavia non mi ricordo il risultato quindi Vediamo un po' però non sembrano essere del parere Ma non mi vedono neanche Signore buongior... Ok, ho avuto il messaggio Non puoi caricare le principesse con questo veicolo Ha detto che è troppo piccolo Ho i miei dubbi comunque Se cali da un'altezza non mortale con una granata in mano Questa esploderà E il secondo è di Alessandro Ma prima lascia il mio piacere iscriviti che porta fortuna E magari salverete un'esplosione al signor Clinton Chi può dirlo Ha dato una bella botta tuttavia non esplosa Nulla di fatto Se vai da un qualsiasi barbiere puoi trovare un quadro con Los Santos inondata E la cosa può essere confermata perché andando vicino all'osservatorio Possiamo trovare sulla montagna un corallo Proprio per questo avvenimento E ringrazio Giva per questo Il mito è assolutamente confermato Cosa succede se porti un NPC in fondo al mare dove c'è lo squalo? E ringrazio Samo per l'ultimo Quindi in modalità schettino e abbandoniamo la nave Abbiamo già lo squalo Purtroppo Afrovo ci ha abbandonato Credo abbia mangiato delle pietre a colazione dove sta andando Comunque succede questo E se ne conosci uno mandamelo in privato su Instagram Grazie per la visione